Il capogruppo del PD Sandro Mariani è il nuovo presidente della Commissione Statuto e Legge elettorale. La nomina si è resa necessaria in quanto la carica era rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ex consigliere regionale Camillo D'Alessandro. La seduta è stata preseduta dal presidente Giuseppe Di Pangrazio che ha invitato i commissari a ricostituire gli organismi della Commissione così come prevede il regolamento interno del Consiglio regionale. Il nome di Mariani è stato proposto dai consiglieri della maggioranza che erano presenti in Commissione e all'esito della votazione ha ottenuto 19 voti favorevoli tra quelli assegnati ai commissari.